In questa edizione del DNews potrebbe essere più grave il bilancio delle ultime ore nel Mediterraneo. Si temono nuovi dispersi. Attualmente sono 29 gli immigrati morti di freddo sul barcone. E partono le polemiche su Triton. Maxi operazione dei carabinieri che hanno arrestato 61 persone. Gli indagati sono accusati di associazione di tipo mafioso, traffico di sostanze stupefacenti, estorsioni, usura, riciclaggio e detenzione di armi. Sequestrati beni per 10 milioni di euro. Perquisizioni anche a Catania. Parla di aggressione e delegittimazione in atto contro i vertici di Confindustria. rilanciando il recente allarme del Palazzo di Giustizia di Caltanissetta. Una manovra subdola realizzata anche attraverso il discredito mediatico. E ribadendo la fiducia nei confronti della magistratura, assicura che andrà avanti nella sua azione. Lo afferma il presidente di Confindustria Sicilia, Antonello Montante, indagato dalla procura di Caltanissetta e Catania. Diritto alla pesca in acqua internazionali, Forza Italia presenta interrogazione ai Ministeri degli Affari Esteri e delle politiche agricole, alimentari e forestali. Presentata la Banca del Cuore, un enorme registro elettronico in grado di raccogliere i dati clinici di ogni cittadino italiano. Idea e progetti hanno un unico denominatore, la base economica. Professionisti e imprese possono contare oggi su una realtà solida e presente sul territorio. Banca base, il nostro obiettivo, realizzare i vostri progetti. Guardare oltre alla ricerca della precisione assoluta. Dal 1975 da Crazy Time, perfezione, passione, tecnologia, energia inesauribile. Rimenditore ufficiale di orologi radiocontrollati, navigatori GPS, bussole. Da Crazy Time, cinturine e batterie delle migliori marche. Assistenza, riparazione e manutenzione durante e fuori garanzia. Orologi moda e gioielli in acciaio. Puoi acquistare il tuo orologio anche online. Scopri le offerte, vai sul sito crazytime.it e sulla pagina Facebook. Ogni giorno qualcosa di nuovo dà valore al tuo tempo. Crazy Time, dal 1975 a Catania, in corso delle province 35. Format, rendiamo concrete le vostre idee. Stampa digitale, allestimenti, insegne, cartotecnica, lavorazioni a frese e laser, progettazione e realizzazione in plexiglass. La stampa che prende Format. Le cooperative sono società che fondano la loro unicità sul principio mutualistico, il quale permette di usufruire di importanti sgravi fiscali e agevolazioni finanziarie. CESICOP è il centro servizi interprovinciali di Conf Cooperative, a supporto delle cooperative del territorio, fornendo servizi di consulenza contabile, fiscale e del lavoro, progettazione fondi europei e accesso al credito. Particolari agevolazioni per il 2015 alle cooperative in a start-up sui servizi offerti. CESICOP sostiene la cooperazione autentica con professionalità. A Catania, in corso Sicilia 24. Dopo la tragedia delle scorse ore, con 29 immigrati morti per ipotermia, mentre a bordo di un gommone cercavano di raggiungere le costi italiane, si prospetta uno nuovo drammatico capitolo. Si sono infatti perse le tracce di due imbarcazioni individuate dalle motovedette di Triton nella tarda serata di lunedì. Sette immigrati soccorsi nel canale di Sicilia hanno invece affermato di far parte di un gruppo di almeno altre 100 persone. E intanto arriva una pioggia di polemiche. Un orrore, dichiara Laura Boldrini. Persone morte non in un naufragio, ma per il freddo. Queste le conseguenze del dopo Mare Nostrumo, si legge infatti in un tweet della Presidente della Camera. Critico anche il leader della Lega, Matteo Salvini. Strage a largo di Lampedusa, 29 immigrati morti, altro sangue sulle coscienze sporche dei falsi buoni, ha scritto su un Twitter il segretario del Carroccio. Salvini ha inoltre annunciato che chiederà al Presidente della Commissione europea Juncker di sospendere Triton e intanto sollecita le dimissioni del Ministro dell'Interno Angelino Alfano. Anche il PD è diviso sull'operazione. Triton non è sufficiente, dicono in coro le organizzazioni umanitarie, insieme ai partiti di sinistra, che puntano l'indice sulla decisione di Matteo Renzi e del suo governo di cancellare Mare Nostrum. Senatore, parliamo della tragedia, l'ennesima che purtroppo ha visto 29 immigrati morti di Fred. Un'operazione Triton che spacca anche il Partito Democratico e che non funziona. Il Presidente della Camera, Laura Boldrina, ha detto che è un orrore. Qual è la vostra posizione? La nostra posizione è chiara. Sin dall'inizio Forza Italia, qui in Sicilia, ha combattuto Mare Nostrum e successivamente anche Triton. È un'operazione che costa tantissimo, è un'operazione dai contorni della legalità oscuri e soprattutto vediamo che se siamo così solerti con le nostre navi militari ad andare a prendere i migranti accompagnando quelli che sono i trafficanti di morte per consentirgli di essere speculatori, allora vorremmo di converso che la stessa nostra marina militare accompagnassi i nostri pescherecci quando vanno a fare pesca. Salvini chiede le dimissioni di Alfano, voi? Non credo che siano semplicemente le dimissioni di un ministro a risolvere il problema. Lo disse a suo tempo, il trattato che è stato sottoscritto dall'Italia con l'Europa è sbagliato. All'articolo 7 individua nello stato di primo approdo quello stato che si deve occupare di questi migranti. Quindi questo che cosa ha determinato? Che tutti gli stati frontalieri sono diventati un luogo di traffico di esseri umani per portarli in Italia e noi obbligati all'accoglienza con un costo straordinario oltre che con i pericoli in termini di sanità e di salute pubblica per i nostri cittadini. Va rivisto quel trattato e quindi in prima persona Renzi e il PD si deve occupare di questa materia. E poi ci vuole un'Europa che si occupa di ciò che accade in Sicilia perché noi siamo la piattaforma più vicina a tutto ciò che accade. L'operazione Triton non è altro che un arretramento dell'operazione Mare Nostrum delle nostre navi e di quelle di qualche nave europea e non risolve assolutamente il problema. Il problema è a monte e non può essere risolto a valle. Un intreccio tra malavita romana e organizzazioni mafiose di Sicilia, Campania e Calabria è quanto emerge in maniera sempre più nitida dalle inchieste che nella capitale hanno portato a sgominare un mese fa la banda facente capo all'ex NAR e ultimo capo della banda della Magliana e oggi quella legata al boss della camorra Domenico Pagnozzi detto o professore. Il suo gruppo camorristico era radicato nella capitale e i suoi membri erano conosciuti con soprannome di Napoletani della Tuscolana. Secondo le indagini compiute dai carabinieri del nucleo operativo di Roma e coordinate dalla DDA della capitale la banda sgominata oggi fa parte di un gruppo più ampio composto da criminali romani e da malevitosi di origine campana che aveva costituito sul territorio della capitale una realtà criminale del tutto autoctona. In particolare Domenico Pagnozzi portava personaggi della malavita dal suo territorio di origine. Tra gli interessi del gruppo c'era il controllo di alcune piazze dello spaccio della droga nella capitale ricorrendo all'intimidazione e alla violenza per guadagnare potere. I napoletani della Tuscolana avevano rapporti di affari anche con altri gruppi di tipo mafioso operanti sia a Roma che in Campania e in Calabria. Pagnozzi ha guidato l'organizzazione fino al suo arresto per l'omicidio del boss della Marranella, Giuseppe Carlino ucciso a Torvaianica il 10 settembre 2001 per ordine di Michele Senese che voleva vendicare la morte del suo fratello Gennaro vittima di un agguato nel 1997. Il clan senese aveva rapporti stretti con quello di Pagnozzi e per ricostruire le attività dei due gruppi sono state fondamentali le dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia. Nella tarda mattinata di ieri, personale della Polizia di Stato ha dato esecuzione a una misura cautelare della permanenza in casa del Tribunale per i minorenni di Catania a carico di un 14enne per i reati di rapina aggravata e ricettazione in concorso con altri. A conclusione delle indagini, coordinate dalle locali Procura della Repubblica e Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni e condotte da personale della sezione reati contro il patrimonio squadra antirapine conseguenti alla rapina commessa nella tarda serata dello scorso 27 gennaio ai danni del rifornimento carburanti Agip ubicato lungo la tangenziale di Catania sono stati acquisiti univoci e concordanti elementi di responsabilità a carico del predetto minore in quanto responsabile in concorso con altri del citato delitto nonché di altra rapina commessa il pomeriggio del 27 gennaio in danno di un'attività commerciale di Mr. Bianco. In entrambe le circostanze per commettere le rapine era stata utilizzata un Opel Corsa risultata di provenienza furtiva rinvenuta e sequestrata la notte del 28 gennaio scorso Il minore è stato sottoposto alla permanenza in casa nella tarda mattinata di ieri all'atto delle dimissioni del reparto di neurochirurgia dell'ospedale policlinico di Catania dove si trovava ricoverato a seguito del ferimento Parla di aggressione e delegittimazione in atto contro i vertici di Confindustria rilanciando il recente allarme del Palazzo di Giustizia di Caltanissetta una manovra subdola realizzata anche attraverso il discredito mediatico e ribadendo la fiducia nei confronti della magistratura assicura che andrà avanti nella sua azione Il presidente di Confindustria Sicilia Antonello Montante da poco componente dell'Agenzia Nazionale per i Beni Confiscati risponde così alla pubblicazione su Repubblica di notizie su due inchieste a suo carico per reati di mafia da parte della procura di Caltanissetta dopo le dichiarazioni di Pentiti e della procura di Catania a seguito di una denuncia sarebbero tre i collaboratori di giustizia che lo accusano e che avrebbero parlato di appalti e relazioni antiche con nomi discussi un paio dei quali, a esempio, furono testimoni di nozze di un giovanissimo Montante, allora 17enne ma l'industriale nisseno non ci sta e anche attraverso il suo staff assicura che non farà nessun passo indietro che significa pure niente di missioni dei suoi incarichi ho letto, dice Montante, su un quotidiano nazionale notizie che mi riguarderebbero mi tornano in mente le parole profetiche pronunciate appena qualche giorno fa dal presidente della corte d'appello di Caltanissetta in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario l'alto magistrato, sottolinea l'imprenditore ha parlato di attacchi contro i nuovi vertici confindustriali siciliani e nisseni spesso aggrediti attraverso il metodo subdolo della diffamazione e del discredito mediatico e l'accentuata campagna di delegittimazione condotta a tutto campo contro vari protagonisti dell'antimafia operativa mirate a riprodurre una strategia della tensione che potrebbe tradursi in azioni eclatanti e spiega Montante non è la prima volta non è un caso che nel 2013 il Comitato Nazionale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica abbia deciso di riunirsi proprio a Caltanissetta mettendo attorno allo stesso tavolo i vertici delle forze dell'Ordine e della Magistratura insieme con i rappresentanti di Confindustria Montante e Lobello anche in quella circostanza il messaggio unanime fu quello di alzare il livello di guardia attorno a chi con azioni concrete ha segnato un'inversione di rotta nella lotta alla criminalità e i procuratori presenti espressero preoccupazioni sulla delegittimazione in atto da parte della mafia contro i vertici di Confindustria detto questo conclude Montante posso assicurare che il mio impegno contro il malaffare per liberare le imprese dal sorpruso delle mafie continuerà con maggiore forza e determinazioni di prima in continuo contatto così come ho sempre fatto con le forze dell'Ordine istituzioni e magistratura cui va la mia più assoluta fiducia Onorevole Falcone si torna a parlare di depuratori già a Forza Italia aveva sollevato il caso il Premier Matteo Renzi è deciso a commissariare la Sicilia in quanto ha dichiarato che non è possibile che più di un miliardo di euro tecnicamente non sono stati spesi Crocetta alza le mani dice che durante l'incontro che è avvenuto insieme all'Adderio e all'assessore all'economia Baccei non era stato discusso di commissariare la Sicilia poi fa anche un passo indietro e dice che si trova d'accordo con il Premier Matteo Renzi e che per lui non ci sarebbe nessun problema ma la superficialità di Crocetta con cui tratta gli argomenti lascia sicuramente sbigottiti però ormai lo conosciamo quindi voglio dire non ne facciamo una tragedia è chiaro che il commissariamento del governo nazionale nei confronti della Sicilia fatto a seguito dello sblocco Italia fu già denunciato da Forza Italia nello scorso settembre quando noi lanciamo l'allarme che non soltanto il commissariamento comporta l'accelerazione della spesa ma comporta anche un'altra questione che su cui tutti stanno tacendo che è quella la far affluire questi fondi all'interno di un fondo unico del Ministero dell'Ambiente e poi dirottarli eventualmente questi fondi possono essere dirottati in altri territori più fattivi rispetto alla Sicilia e questo è il primo problema il secondo problema che noi abbiamo contestato a Crocetta si è verificato nel dicembre del 2012 quando Crocetta abolì gli ato gli ambiti territoriali ottimali idrici ma non fece una norma che sostituisse questi enti di gestione per cui i comuni si sono trovati ad avere queste risorse ma non poterle spendere e questo a causa di una norma scellerata che volle fare in quella foga riformista a tutti i costi di Crocetta ma in quel caso io ricordo e vorrei ricordare anche del Movimento 5 Stelle che fece una norma con la quale hanno soppresso le autorità di gestione senza sostituirla con un'altra autorità per cui oggi a distanza di due anni ci troviamo che il Governo nazionale commissaria ha bloccato bloccherà un miliardo di euro in parte magari li lascerà alla Sicilia in parte li dirotterà in altri territori dell'Italia più virtuosi Arrivò oggi in Commissione Affari Istituzionali all'Assemblea Regionale Siciliana l'emendamento di riscrittura del disegno di legge sulle province è partorito ieri sera nel corso del vertice di maggioranza preseduto dal Governatore Rosario Crocetta il DDL sulle province era stato depositato diversi mesi fa mentre la nuova versione prevede l'istituzione di sei liberi consorsi e di tre città metropolitane Palermo, Catania e Messina al posto delle attuali nuove province il testo è scritto dal neoassessore alle autonomie locali Ettore Leotta che ha modificato anche la prima parte della riforma approvata un anno fa così viene elevato da 150.000 e 180.000 limite di popolazione che gruppi di comuni devono mettere insieme per formare un libero consorzio cambia anche secondo quanto si apprende il modello di elezione dei presidenti dei liberi consorsi si passerebbe così da un voto limitato ai sindaci del territorio a un esteso anche ai consiglieri comunali Con un'interrogazione parlamentare ho esortato i ministri degli estri e delle politiche agricole ad adoperarsi celermente anche in sede di Unione Europea per aggiungere un accordo con i paesi che in questi anni hanno sequestrato illegittimamente pescherecci italiani per garantire il diritto alla pesca nelle acque internazionali del mar Mediterraneo lo ha dichiarato questa mattina il senatore Vincenzo Gibino coordinatore di Forza Italia in Sicilia che ha tenuto una conferenza stampa sul tema tutela del diritto alla pesca in acque internazionali il diritto alla pesca nel Mediterraneo nel tratto di mare che interessa l'Italia Egitto, Tunisia e Libia deve essere affrontato tempestivamente in via definitiva facendo riferimento ai trattati internazionali che regolano le modalità di definizione dei confini marittimi degli stati tutelare il diritto alla pesca in acque internazionali lei senatore ha presentato un'interrogazione e domani si attende risposta perché è inaccettabile che i pescherecci vengano bloccati creando così disagi è proprio così con gli stati frontalieri Egitto in particolare Tunisia e Libia dal 2012 al 2015 si sono verificati numerosi sequestri di pescherecci e di pescato sulla zona economica che loro interessa ritengono che le loro acque territoriali debbano avere un'ampiezza maggiore rispetto a quella che i trattati internazionali indicano ciò determina di fatto e concretamente un accompagnamento durante le operazioni di pesca da parte della marina militare di questi stati dei nostri pescherecci di questo sequestro di pescato che crea ovviamente un danno economico straordinario all'isola abbiamo presentato un'interrogazione parlamentare domani il ministro riferirà alle 15.30 in commissione esteri perché chiediamo che venga fatta chiarezza il diritto internazionale è chiaro in tal senso ma è ovvio che se gli stati non interagiscono tra di loro e non fanno chiarezza a pagarne le conseguenze sono i siciliani la nostra terra e la nostra marineria peschereccia tra l'altro le normative anche dell'Unione Europea sono molto rigide sono molto rigide sono molto chiare evidentemente non c'è una non corretta interpretazione del diritto e non possiamo pensare che prima era rispettato e negli ultimi anni invece non accade più quindi evidentemente c'è stata una rottura dei rapporti e vogliamo ripristinare chiarezza trasparenza e legalità La FP CGL Will e Cisla hanno organizzato una mobilitazione quest'oggi davanti a tutte le prefetture una mobilitazione della polizia locale per denunciare cosa? Noi denunciamo rispetto a questa polizia che si prodica con devozione sulla parte lavorativa hanno una grande responsabilità perché coprono tutti i ruoli anche della polizia di Stato ma non sono riconosciute a tal senso questo è il primo punto fondamentale nel rispetto dei ruoli nel rispetto del lavoro che un lavoratore lavora sodo con una grande responsabilità e guarda caso non c'è un rispetto noi chiediamo anzitutto all'Eccellenza Prefetto oggi consegneremo un documento nazionale CGL in quanto chiediamo che i ruoli non solo devono essere rispettati e considerati perché guarda caso alcune volte c'è una grande discriminazione che ci sia una mela marcia questo fa parte noi non lo consideriamo deve essere buttato fuori dei ruoli dei lavoratori però esigiamo un rispetto importante per questo ruolo così importante perché le città devono essere coperte bene nei ruoli della grande responsabilità che hanno attualmente manca una legge che regolamenta un po' il corpo molto spesso gli operatori non hanno dei riferimenti vero è che nei comuni abbiamo avviato una fase di confronto con i sindaci per quanto riguarda l'organizzazione dei servizi però in mancanza di una legge regionale e nazionale in mancanza di un progetto di riordino molto spesso quello che viene a mancare è il coordinamento il governo ha tagliato le risorse i trasferimenti agli enti locali le ripercussioni sono tante perché viene messa in discussione anche l'organizzazione del lavoro e l'organizzazione dei servizi anche perché adesso con il nuovo riordino delle province e la creazione delle aree metropolitane i corpi di polizia urbana acquisteranno nuove competenze e quindi senza un progetto di riforma e di riordino del corpo sicuramente non si sarà nelle condizioni di organizzare e ottimizzare al meglio i servizi chiedete anche l'avvio dei concorsi perché bisogna incrementare questo corpo sì a Catania già con l'amministrazione abbiamo avuto già un confronto proprio perché l'amministrazione sta rimodulando le dotazioni organiche a Catania c'è un organico ridotto all'osso ma anche il 50% del personale quindi noi chiediamo anche all'amministrazione comunale che avvii sicuramente al più presto bandisca i concorsi perché io credo che sia importante su questo garantire la tutela del cittadino e dare la possibilità anche al corpo di polizia urbana di operare con sicurezza Ispettore una mobilitazione quella di oggi che vede appunto tutti i corpi della polizia municipale in protesta davanti alle prefetture di tutta Italia sì davanti alle prefetture di tutta Italia oggi c'è un sit-in per chiedere con forza la riforma della legge 6586 che è la riforma della polizia locale perché Obisoleta da oltre 20 anni che non rispecchia più né i presupposti odierni ma soprattutto non dà le tutele ai lavoratori della polizia locale infatti a parità di mansioni a parità di qualifiche con le altre con le forze dell'ordine polizia carabiniera guardia di finanza pur facendo lo stesso lavoro noi non abbiamo le stesse tutelle infatti il presidente del consiglio Monti con un suo decreto ci ha tolto le quindennizzo la pensione privilegiata e la causa di servizio questi sono degli strumenti fondamentali per quanto riguarda le tutele di un appartenente alle forze dell'ordine o che comunque fa questo lavoro perché in caso di infortuni o di malattia grave noi non abbiamo nessuna tutela ma semplicemente sarebbe come una malattia normale e questo non è possibile a parte il fatto che questo lede il diritto costituzionale tra persone che fanno lo stesso lavoro e che non hanno gli stessi diritti però hanno gli stessi obblighi quindi noi chiediamo con forza la riforma della polizia locale il sindaco di Catania Enzo Bianco il presidente nazionale dell'AMCO Michele Gulizia e il direttore generale dell'azienda ospedaliera Garibaldi hanno presentato a Palazzo degli Elefanti l'iniziativa dell'associazione daglieri per istituire una banca del cuore si tratta di un progetto unico al mondo un enorme registro elettronico in grado di raccogliere i dati clinici dell'elettrocardiogramma e della pressione arteriosa di ogni cittadino italiano le informazioni raccolte saranno conservate nella cassaforte del cuore sempre disponibili e consultabili grazie al Bancom Heart una card con le credenziali individuali un user ID e una password conosciuta solo dal paziente l'iniziativa fa parte di Cardiologia Aperte la settimana di sensibilizzazione organizzata ormai da sei anni dall'AMCO con incontri dibattiti attività di educazione sanitaria gazebo in piazza con screening cardiologi gratuiti dobbiamo avere una medicina che previene e avere la possibilità di immagazzinare tutti i dati dal punto di vista cardiologico e in qualunque posto uno si trovi facilita l'intervento dei medici può salvare centinaia e centinaia di vite umane questa iniziativa che è promossa dal presidente di tutti i cardiologi ospedalieri italiani che è un catanese il dottor Gulizia prende le radici e muove da Catania una volta tanto Catania ha l'avanguardia per cose positive io stesso mi sono sottoposto questa mattina all'elettrocardiogramma ho la mia tessera e adesso in qualunque parte del mondo io mi trovi posso fornire questa tessera con i miei dati a aiutare un intervento che può salvare la mia vita questo è gratuito basta collegarsi col sito Banca del Cuore e tutti i catanesi ma non solo i catanesi potranno tranquillamente andare a fare un elettrocardiogramma gratuitamente e caricare i dati su questa memoria che può salvare la vita di una persona le iniziative come quella attuale confermano la sempre alta attenzione della Polizia di Stato per la tutela dei minori e per il contrasto di tutte le forme di illegalità anche con l'utilizzo delle nuove tecnologie che ne mettono a rischio l'incolumità la Polizia Postale di Catania è all'avanguardia nell'attività di prevenzione per questo siamo grati al dirigente del compartimento e a tutti i suoi collaboratori per i prestigiosi risultati che hanno ottenuto che sono garanzia di professionalità e prossimità per la società catanese lo ha detto il questore di Catania Marcello Cardona in merito all'incontro organizzato nell'Istituto Tecnico Superiore Cannizzaro della Polizia di Stato dal MIUR e dalla Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza che si è tenuto oggi nel capoluogo Ettenneo con al centro il tema del bullismo l'incontro rientra nell'ambito delle iniziative della SAFER Internet Day 2015 che ha visto workshop in contemporanea presso le scuole di 100 capoluoghi di provincia italiane nei quali la Polizia ha incontrato 60.000 studenti con lo slogan Creiamo Insieme un Internet Migliore il workshop di Catania è un'edizione speciale di Una Vita da Social un progetto itinerante sviluppato dalla Polizia Postale e delle comunicazioni che ha l'obiettivo di aiutare gli utenti della rete a navigare in piena sicurezza e a gestire con consapevolezza e controllo i dati condivisi online il progetto si compone inoltre in una pagina Facebook Una Vita da Social nella quale vengono riportate tutte le attività e le impressioni dei giovani studenti Un uomo e la sua figlia quindicenne bloccati dalla neve nelle loro auto sull'Etna sono stati soccorsi da militari del soccorso alpino della Guardia di Finanza di Nicolosi i due erano rimasti intrappolati in contrada Miria nel comune di Biancavilla sul versante sud-ovest del vulcano a circa 1100 metri di quota a causa di una forte bufera di neve che aveva reso difficoltoso il transito degli automezzi Padre e figlia residenti a Mascaluccia sono stati presi a bordo del mezzo dei finanzieri che li hanno condotti nella caserma di Nicolosi dove ad attenderli vi erano alcuni familiari intanto mentre il gelo si attenua anche se le temperature restano rigide si fa il conto dei pesanti danni provocati dalle tormenti di neve e dal vento impetuoso che ieri si sono abbattuti su gran parte della Sicilia centralini di forze dell'ordine e vigili del fuoco in Tilt in provincia di En dove le raffiche hanno sradicato centinaia di alberi e di velto pali di linee elettriche e telefoniche tantissimi gli incidenti stradali soprattutto nei centri abitati dell'Ennese con auto finite fuoristrada e maxi tamponamenti provocati soprattutto dal ghiaccio questa mattina è ancora chiusa la statale 117 Nicosia Mistretta dove ieri alcuni automobilisti sono rimasti bloccati per i soccorsi resi difficili dal vento sono intervenuti gli uomini del corpo forestale di Mistretta in provincia di Messina un uomo che presentava segni di assideramento è stato trasportato all'ospedale di Mistretta dall'alba sono al lavoro i mezzi di Anas e province e al momento sono transitabili la maggior parte delle statali del centro Sicilia chiusa la strada provinciale mare neve per l'Etna da Nicolosi e Zafferana e quindi isolato il rifugio Sapienza anche se i mezzi spalaneve sono al lavoro per riaprire la strada oggi le temperature sono meno rigide e sull'Etna al Sapienza il termometro segna meno 4 gradi contro i 10 di ieri pomeriggio chiusa al transito nei pressi di Floresta la statale 116 che per il resto transitabile solo con catene montate come anche la lingua glossa Randazzo la statale 514 la 116 di Floresta la 284 Bronte Maletto la 120 tra Cesaro e Troina ancora fermi i collegamenti con le isole minori a causa del mare molto grosso sono ormai 13 giorni che Ustica non viene raggiunta da Palermo a a a a a a a Grazie a tutti.